Benvenuti al nuovo appuntamento, la contabilità come la faccio io non la fa nessuno. Oggi parleremo della contabilizzazione, delle paghe e dei contributi. Salve, benvenuti a questa nuova puntata della contabilità come la faccio io non la fa nessuno. Ovviamente è una grande presa in giro per coloro che pensano che l'immissione della contabilità sia un'attività ad alto valore aggiunto per cui sia necessario avere chissà quali doti. Spiego ogni volta che un conto è l'immissione, qui oggi parleremo delle paghe e contributi, della contabilizzazione delle paghe e dei contributi, di quanto sia semplice la contabilizzazione. Ma l'analisi dei dati contabili, l'analisi di bilancio invece è un'attività ad altissimo valore aggiunto. Quindi il segreto negli studi professionali del futuro sarà esternalizzare l'immissione, che appunto non occorre un fenomeno per fare l'immissione, ma tenere all'interno dei studi, anzi concentrarsi e potenziarsi sull'analisi di bilancio. Vi lascio con il video su come contabilizzare le paghe e i contributi e ovviamente visitate il sito per approfondire il discorso sul servizio di esternalizzazione della contabilità, che non vuol dire che la contabilità viene fatta fuori, la contabilità viene immessa da fuori all'interno dello studio, quindi non si muove niente dallo studio. Buona visione con Paghe e Contributi. Allora, i costi della mano d'opera. Dovete sempre dividere quello che costa per l'azienda da quello che va al dipendente. Sono due cose totalmente diverse. Il costo dell'azienda, cioè quello che va nel conto economico, dare sezione sinistra del conto economico. Il costo della mano d'opera, questo è l'ordo contributivo che viene fuori dalla contrattazione collettiva nazionale, viene stabilito a livello nazionale, per cui devi prendere, secondo il livello della mansione che hai, devi prendere in questo caso 3.189 lotti. A questo, per l'azienda, questo va al dipendente, l'ordo. Per l'azienda si aggiunge il costo degli ordini sociali, si chiamano, i contributi che vanno pagati all'IMS. L'IMS è l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Che fa l'IMS? Prende tutti questi contributi, che tutti pagano, e che le aziende pagano, e che vedremo pagano anche i dipendenti, però queste parti qui, l'IMS li prende e li investe. Ci compra degli immobili, compra dei turistati, eccetera, perché? Perché poi devono servire per pagare le pensioni a chi sta in pensione, quindi c'è chi lavora e paga i contributi, e chi sta in pensione che prende i soldi. Questo va dal 20 al 45%, a seconda, se è un apprendista, se è il settore, eccetera, eccetera, addirittura ci sono anche dei contratti che non si pagano niente, però l'azienda paga, quindi, mano d'opera, i contributi, gli oneri sociali, l'INEI, l'INEI sarebbe l'assicurazione sugli infortuni, che è l'Istituto Nazionale Assicurazione Lavoratori, si chiama. Cioè, paghi un premio come se fosse un'assicurazione privata, in questo caso dello Stato, che serve al compagno di contributi. Generalmente è il 4% dell'ordo che prende la mano d'opera, ok? Si paga una volta all'anno, a febbraio, poi si possono pagare le attenzioni, eccetera, eccetera. A questi, soprattutto per gli artigiani, per le aziende più piccole, si aggiungono dei fondi, cioè questi si mettono d'accordo e dice io, oltre a pagare i contributi, quindi l'IMS, l'INEI, voglio fare un fondo che serva per i lavoratori. Il più grosso di questo è l'EPAM. L'EPAM è scritto con la M, qui è scritto con la M. Per esempio, devi farti i denti l'azienda che aderisce all'EPAM e ti consente di prendere i soldi, appunto, tutti dall'EPAM e quindi di farti i denti, oppure, non so, per gli studi dei figli. Sono dei contributi che si pagano per aiutare i lavoratori. Ammere? Poi, ci sono le ferie e i permessi. I contratti prevedono che tu, grosso modo, per 5 settimane hai le ferie pagate. Quindi, vieni pagando per 12 mesi, però hai 5 settimane di ferie. Più maturano, grosso modo, 2 giorni al mese di permesso. Quindi c'hai le ferie più i permessi. E questi sono i costi aggiuntivi. Più c'è anche la tredigesima, qui non lo metto perché il costo per la mano d'opera è per 14 mesi, più ti dà un mezzo di tempo, tredigesima, per la produzione. Per il commercio è prevista anche una quattordicesima, si parla anche da gennaio e da giugno. E in più, a fine anno, bisogna fare l'accantonamento del TFR, trattamento di fine rapporto. Questo si fa una volta all'anno e non si deve pagare a uno che il dipendente abbia chiesto di prenderlo e di pagarselo lui con i fondi comuni. Cioè, riprende e li dà a una banca, a un istituto che li investe. Ma sempre deve essere licenziato prima? No, 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 il TFR ci sono due modi. O lo accantona l'azienda, oppure se lo prende il dipendente, non è che lo prende lui, lo prende la banca o l'azienda di gestimento che lui dice, guarda, io voglio che i miei soldi li investa Parivate, TNL, oppure l'infineco. Allora l'azienda prende i soldi e gli dà al fineco e lui fa la polizia dita. Si costituisce una polizia dita. Se il dipendente viene licenziato, deve essere pagato per tutti i TFR, se non è stato ancora pagato. Perché è possibile anche dare degli acconti sui TFR. Cioè, se uno gli serve, io vado a dare il TFR e me ne prendo un acconto. Ok? Questo è quello che compone il costo dell'azienda. Quindi, mano d'opera, ognini sociali, INE, il costo di fondi bilaterali, le fede permessi, le tredicesime, le tessime. In busta paga, non è così. Cioè, in busta paga sarebbe quello che va in tasca al dipendente, netto. Questo è quello che costa l'azienda. Questo è quello che costa al dipendente. Cioè, scusate, è quello che prende il dipendente. Allora, il dipendente dovrebbe prendere lo stipendio, l'ordo. Quindi questo, vedete? Questo qui. Lo stipendio è l'ordo. Poi, gli assegni familiari. Quindi, 3.800. Gli assegni familiari che vuol dire che lo Stato prevede che, se tu hai dei figli che devi sostenere, ti dà lo Stato, ti dà degli assegni. Allora, che succede? Questi assegni, in realtà, li tira fuori l'IMSS. Va bene? Però l'IMSS dice, d'attore di lavoro, siccome tu stai pagando il dipendente, anticipi tu per il mio conto. Poi tu, quando mi devi versare i contributi, non mi versi. Per esempio, se io in questo caso avrei dovuto versare 100 euro di contributi, ne versavo all'IMSS il 90, perché 10 l'avevo anticipato al lavoratore. Ok? Con la costa paga gli davo 10 euro, ma dovevo pagare 100 di contributi. Allora dico all'IMSS, guarda, se non pensavo perché i 10 miglioratori io gli dovevo avere il gruppo, quindi facciamo una compensazione, pago solo 90. Poi, eventualmente, se ci fosse stato un periodo di malattia, lui avrebbe un diritto anche alla malattia, che anche in questo caso, per una parte, una piccola parte, il costo è carico dell'azienda, poco, e è compreso nel costo della malattia. Per la grande maggioranza, invece, lo versa l'IMSS. Anche qui, dobbiamo anticiparlo noi come azienda, e poi invece ce lo scala quello che dobbiamo pagare. Quindi, segni familiari e contributi di malattia sono crediti che noi maturiamo con l'IMSS, perché diamo i soldi al dipendente, ma l'IMSS ce li deve ridare. Quindi, generalmente, quando c'è la malattia o c'è i segni familiari, voi avete un credito, quindi dare dello stato patrimoniale più crediti. Abbiamo più debiti verso i dipendenti, perché dobbiamo dare 10 euro per i segni familiari per la malattia. Dall'altra parte, maturiamo un credito, non è un costo produttivo, perché ci li deve ridare, quindi maturiamo un credito nei confronti dell'IMSS. Poi, i lavoratori, da quello che prendono, grosso modo è il 9%, devono versarlo all'IMSS. Anche qui, non è che vanno loro all'IMSS. Ci dicono, ma mi devi dare 300 euro. Io ho 200 euro di contributi, tenetevi voi 100 euro e pensate di voi all'IMSS. Quindi, l'azienda paga meno al dipendente, ma in realtà poi deve dare all'IMSS. Quindi, qui abbiamo più debiti verso l'IMSS. Abbiamo meno debiti perché non gli paghiamo al dipendente, ma poi abbiamo più debiti perché non gli paghiamo al dipendente. Ok? Nelle tenute, siccome lo Stato dice, io sono sicuro che tu, dipendente, a fine anno guadagnerai i soldi e sono sicuro che saranno quelli che hai preso mese e mese. Quindi, perché tu non mi pai le tasse, le imposte, in questo caso, mese e mese? Allora, l'azienda si sostituisce allo Stato e fa una ritenuta. Prende i soldi, le imposte del lavoratore e li versa poi successivamente allo Stato. Quindi, il lavoratore prende lo stipendio, più l'assegno familiare, più la malattia, meno i contributi che lui deve pagare all'IMSS, ma che l'azienda trattiene e paga l'azienda. Meno le imposte che lui deve pagare allo Stato, ma che trattiene l'azienda e paga l'azienda. Poi, a fine anno, si fa il CUD, Certificazione Unica del Dipendente. Cioè, si dice, tu hai preso questi soldi, dovevi pagare queste imposte, ne hai già pagate perché te l'ho trattenuta io, supponiamo che tu devi pagare 30, ne hai pagate 29 perché te l'ho trattenuta io, devi pagare un euro allo Stato. Molto più spesso accade invece il contrario, cioè che si pagano più le tenute rispetto a quello che devi pagare. Cioè, io dovevo pagare 100, lo Stato mi ha trattenuto 120 per posizione dell'azienda, io sono a 20 e a quello. Allora, lì si presenta il 7,30, che si dà il dottorio lavoro, il dottorio lavoro vi dà i 20 euro nelle successive buste paga. Ok? Quindi questa è la busta paga. Il codice tributo è questo qui, il 2001-1013. Va bene? Se andiamo a vedere la scrittura in partita doppia, noi abbiamo, adesso ho queste frecce qui, noi abbiamo che il costo della manodopera che è quello che viene dall'orto della busta paga, scusate, adesso ho una ripiena questa, eccolo qua, allora, il lordo della busta paga sarà il costo che noi metteremo in dalle del conto economico. Ok? Quindi faremo dare conto economico, costi per mano d'opera, avere debiti verso i dipendenti, che sarebbe quello che io devo percepire dalla busta paga. Ok? Quindi, io l'azienda ho un costo, perché devo pagare il dipendente, quindi ho più costi e più debiti avere. Bene? Poi ho anche gli ordini sociali. No? Ecco, gli ordini sociali sono un costo per l'azienda, sia IMSI, sia INAIL, ecc. e anche questo va in dare, eccolo qua, va a costo, ok, quindi va in dare, ordini sociali, conto economico, quindi costo, ma io ho più debiti verso l'IMS, perché li devo versare all'IMS, quindi ho costo mano d'opera, più debiti verso il dipendente, costo dello sociali, più debiti verso l'IMS. Se ci fossero anche, come ci sono spesso, gli enti bilaterali, allora dovremmo inserire anche il costo per gli enti bilaterali. Adesso piazziamo, l'EPAM è presente, no? Ecco, enti bilaterali a costo, cioè, la parte che io pago è l'ente bilaterale, va a costo, quindi i contributi enti bilaterali, a debiti verso l'EMS bilaterale, ok? Vedete che il totale dell'azienda è la somma di tutto questo, questo è il costo, quello che costa all'azienda, più l'eventuale malattia, vi manca l'eventuale, vedete che non ci ho messo in serigomia, perché se non è, non ci ho messo, sulla malattia invece una parte potrebbe essere al carico dell'azienda, quindi come costo. Vediamo la busta paga adesso, io quando pago il dipendente devo trattenere gli assegni familiari, quindi quello che sono assegni familiari, li devo diminuire dal debito, perché li devo aumentare, li devo darli a lui, quindi li devo aumentare, assegni familiari, eccoli qua, quindi faccio, aumento quello che devo pagare al dipendente, quindi più debito, debito verso il dipendente, gli devo dare lo stipendio più gli assegni familiari, quindi aumento il debito verso il dipendente di 10, gli devo pagare a lui, quindi aumento il debito verso il dipendente, però, questi li devo pagare l'IMSE, quindi io all'IMSE gli scalo, quindi faccio meno credito, quindi lo metto in avere, più credito verso l'IMSE sarebbe meno credito, meno credito, più credito, è sempre dare dello stato patrimoniale, giusto perché è una minimazione di debito, ma volendo anche un più credito, vedete, allora io lo metto in dare, già, quindi so che devo pagare 668 all'IMSE di costi quotidiani, ma mi devo riprendere 10 euro, quindi già a questo punto invece di 668 avesserò 6,58, perché 10 lo dargli al dipendente, ok? Andiamo avanti, poi abbiamo l'eventuale malattia, cioè devo dare per conto di un'IMSE la malattia, se c'è, c'è una parte di costo che è a carico dell'azienda, un'altra parte che invece io devo, qui c'è un errore perché debiti verso IMS, sbagliato qua, anche qui, aumenta il debito verso i dipendenti, no? Per chi gli devo dare al dipendente, come essendo la malattia la devo dare al dipendente, quindi aumenta il debito verso il dipendente, ma mi diminuisce il debito verso l'IMSE, quindi se ho dato 40 euro di malattia al dipendente, l'IMSE mi debiliare 40 euro, quindi 10 verso il dipendente, 40 di malattia, io non verso più 6,68, ma verso 6,68 meno 10 e meno la malattia a quella che c'è. A questo punto faccio il pagamento, ogni fine mese faccio il pagamento e comincio a dire debiti verso i dipendenti lo paro, lo estingo, quindi va meno debiti qua in dare dello stato patrimoniale e l'importo che paro è esattamente il netto della busta pari, lui prende il netto della busta pari, ok? Quindi, ed sarà l'importo iscritto sulla banca, quindi 2678 è l'importo delle buste pari a netto, quindi non posso sbagliarmi, l'uscita di banca deve essere esattamente pari all'importo delle buste pari a nette. Come fa la busta pari all'oltre a diventare netta? Allora, io ho debiti verso i dipendenti che l'oltre, gli tolgo le ritenute dello stato, perché me li tengo io e poi lo dovrò passare dopo allo stato, gli tolgo i contributi che lui deve pagare il 9%, il 9% questo, glielo tolgo, quindi gli tolgo i contributi, gli sommo allo stipendio e l'ordio più gli assegni familiari più la malattia, meno i contributi al carico suo, meno le ritenute, ok? qui già c'è lo stipendio e l'ordio più la malattia più gli assegni familiari su 3199 degli esempi. Tolgo le ritenute e tolgo i debiti verso, tolgo i contributi a carico ai dipendenti e ho il netto in busta con l'arrondamento perché le buste paga quando non c'è mai l'arrondamento, quindi c'è un abbono passivo se devo metterci più, di solito sempre più, non è mai meno, il 16 del mese successivo del pagamento al pagamento pago i debiti verso lo Stato le rarie con due di note faccio il saldo dell'Inse quello che devo dare a lui e quello che inizia e lo pago e poi pago anche gli enti bilaterali qui nello Stato si potrebbe parare il 16 del mese successivo al pagamento quindi se io novembre lo pago a dicembre le ritenute le posso pagare a gennaio perché il 16 il mese successivo se invece io i contributi invece di novembre del mese di novembre anche se li pago il 5 di dicembre li devo pagare il 16 di dicembre cioè la ritenuta va per cassa cioè la pago il mese dopo il 16 del mese dopo a quanto ho pagato i contributi invece bisogna pagarli per competenza il mese dopo a quanto è riferito il pagamento quindi se il novembre lo pago il 5 di dicembre i contributi scalano come il 16 di dicembre anche se lo pago il 5 di dicembre perché? perché riferito al mese di novembre i contributi vanno per competenza lo Stato invece le imposte le prende il 16 del mese successivo quando lo percepito quindi se lo percepito il 5 di dicembre le imposte le pago il 16 di gennaio anche se sono riferite a novembre ok? ecco qui c'è il masterino questi sono debiti verso dipendenti quindi abbiamo stipendio l'ordine l'arrotornamento meno il pagamento meno l'erario contro ritenute meno i contributi a carico ed si chiude il masterino questo è il debiti verso IMS dove c'è i contributi a carico ditta i contributi a carico e dipendenti gli assegni familiari l'eventuale malattia è quello che io pago ok? al 31-12 si fa poi l'accantonamento del TFR siccome non bisogna fare altro ma bisogna imputare un costo che faccia aumentare il debito per il TFR quindi non c'è un'uscita di denaro a meno che non ci sia il discorso dei fondi comuni di investimento che prendano quindi io faccio ogni anno il costo che si chiama accantonamento TFR stato patrimoniale del conto economico dare a fondo TFR stato patrimoniale debiti ok? questo si fa ogni anno e poi lì c'è sempre il conteggio chi lavora le paghe vi dà il conteggio poi bisogna anche rilevare al fine anno il costo delle ferie che non ha maturato cioè che non ha spesate che non ha un sotturito cioè io dovevo mandare e ci sono in ferie non ci sono andato e ci sono pagati le ferie ok? e anche i permessi compresi i contributi quindi se io non sono andato in ferie mi pago lo stipendio che lo devono pagare i contributi quindi l'azienda dovrà fare non solo l'accantonamento ma anche costo manodopera a debiti verso dipendenti per le ferie e oneri sociali a debiti verso IMS per i contributi maturati sulle ferie grazie a tutti grazie a tutti